Anche nell'anno appena trascorso sono stati garantiti sostanzialmente i medesimi servizi educativi e scolastici per i cittadini, aggiungendo anzi importanti funzioni per agevolare gli ultimi, prestando sempre maggiore attenzione agli aspetti qualitativi dei servizi stessi. Una migliore gestione dei servizi ci ha consentito e ci consentirà di applicare delle sensibili riduzioni alle tariffe a carico delle famiglie. Sono le parole del sindaco Tiziano Tagliani e dell'assessore alla pubblica istruzione Cristina Corazzari che insieme al direttore dell'istituzione servizi educativi del comune di Ferrara Mauro Vecchi hanno tenuto una conferenza per presentare i dati relativi al rendiconto esercizio 2017 dell'istituzione servizi educativi scolastici e per le famiglie. Il bilancio si è chiuso con un avanzo di amministrazione disponibile al netto dei fondi vincolati a cantonati di 1.595.473,28 euro quando l'avanzo di amministrazione disponibile nel 2016 era stato di 1.794.817,72 euro. Dai risultati ottenuti si è conseguito ad una anticipazione importante che riguarderà il prossimo anno scolastico. A partire da settembre del 2018 le rette dei nidi e delle scuole dell'infanzia caleranno del 10% perché al termine di un percorso di ristrutturazione e riorganizzazione delle nostre scuole che è partito nel 2011 siamo arrivati ad avere stabilità e quindi con l'avanzo dei bilanci dell'anno scorso e di quest'anno siamo in grado di diminuire le rette. Ci sembra doveroso restituire alle famiglie una parte di questo introito.